Il ragazzo ha la schiena curvata in modo innaturale e le gambe piegate come un ranocchio. Solo così riesce a rimanere aggrappato in un instabile equilibrio sullo scoglio bagnato. Con il braccio tiene la canna ed è nudo perché non può permettersi di bagnare il suo unico abito. In vita ha legato alla rete con cui ha pescato le prede che si dibattono ancora vive tra le sue mani. I capelli e le ciglia grondano di acqua. Il piccolo pescatore non ci guarda. La bocca ha un sorriso soddisfatto e gli occhi sono fissi sui pesci d'argento, il suo tesoro che per nulla al mondo si lascerebbe scappare. Grazie. 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 Grazie.